Per Mario Draghi, la prima uscita pubblica dopo il lancio del piano di stimoli economici da 60 miliardi di euro al mese è l'occasione per fare un primo bilancio. La ripresa di Eurolandia sta prendendo piede, ha detto il presidente della Banca Centrale Europea, e la liquidità immessa nell'economia, contrastando la deflazione, salverà crescita e lavoro. Sappiamo che le nostre misure potrebbero comportare alcuni rischi per la stabilità finanziaria, ma i nostri studi suggeriscono ulteriori miglioramenti nell'attività economica all'inizio di quest'anno, tali che la ripresa dovrebbe gradualmente espandersi e speriamo rafforzarsi. Alla fine del 2014 il prodotto interno lordo del blocco euro è cresciuto dello 0,3%, meglio delle attese. Gli indicatori di inizio 2015 lasciano ben sperare ed il piano, ha detto Draghi, scaccerà il fantasma della sindrome giapponese, cioè il rinvio degli acquisti da parte delle famiglie in attesa di ulteriori cali dei prezzi.